Bentrovati, bentrovati ad un nuovo videotutorial firmato fabbioambrosi.it quest'oggi parleremo di un argomento che a me piace tantissimo, il compressore audio ok, questo è un corso di montaggio video, è un corso su come utilizzare Adobe Premiere al meglio ma come ho sempre detto, un aspetto tralasciato sempre, spesso, sempre più spesso purtroppo da chi produce contenuti multimediali è l'aspetto sonoro del contenuto che viene prodotto l'audio secondo me è almeno un 50, facciamo anche un 60% del valore del contenuto multimediale che si sta lavorando e spesso viene tralasciato, quindi questa serie di tutorial, questo blocco del corso introduttivo ad Adobe Premiere è dedicato proprio al suono ed è per questo motivo che oggi affronteremo un argomento secondo me fondamentale, fondamentale anche per un montatore video, ovvero che cos'è e come funziona un compressore audio. Il compressore audio è uno strumento che se utilizzato bene e settato in maniera opportuna rende il risultato sonoro delle nostre produzioni video molto 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 migliori e fa sicuramente la differenza. Prima però di cominciare vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it, qui lo ribadisco cliccando sul corso Adobe Premiere è possibile visionare l'intero elenco delle lezioni fatte e le lezioni anche che restano da fare del corso introduttivo ad Adobe Premiere, quindi se volete avere un'infarinatura su che cos'è Premiere e come funziona, qui troverete tante lezioni progressivamente più complesse dalle basi fino ai concetti più avanzati di Adobe Premiere. Vi invito se volete ad iscrivervi anche a questo canale YouTube per non perdere i prossimi video e perché nei prossimi mesi parleremo anche di altri software molto utili per le produzioni multimediali in generale. Se vi fa piacere, perché no, iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook, mettete un like alla pagina Fabio Ambrosi e così riceverete aggiornamenti in tempo reale direttamente sulla vostra bacheca Facebook. Cos'è un compressore? Allora anche per questa lezione non apriremo Premiere ma utilizzeremo Adobe Audition solo per una questione di praticità e niente più. Innanzitutto registriamo un audio e vi mostro qual è la problematica che il compressore aiuta a risolvere. Sto registrando un audio con una voce abbastanza bassa e adesso a un certo punto alzo la voce e vado a fare un suono sicuramente con un volume molto più alto. Wow! Ecco qua. Abbiamo creato due forme d'onda differenti se volete. La prima un pochettino più bassa con un volume sicuramente moderato. Se andiamo ad analizzare come abbiamo fatto nella lezione precedente vedremo che il picco massimo di questa porzione di forma d'onda è di 6 meno 6,55 decibel e corrisponde più o meno a questo punto qui dell'onda. Il secondo blocco invece se andiamo ad analizzare ha un picco massimo che supera lo zero ok? Quindi è sicuramente a un volume sicuramente molto più alto del primo blocco. Che cosa ci aiuta a fare il compressore? Il compressore come dice la parola stessa comprime ok? Quindi quello che ci aiuta a fare è abbassare automaticamente tutti quei suoni che superano una determinata soglia. Ora io sto semplificando tantissimo. Ora se siete curiosi di capire bene come funziona un compressore e in che modo può essere utile per chi fa musica per esempio esistono tutorial di ore ed ore su questo argomento quindi chiaramente io lo sto banalizzando se volete. Però in soldoni il compressore comprime quindi abbassa il volume di quei suoni che superano una determinata soglia. Facciamo un esempio pratico. Selezioniamo tutta questa forma d'onda e applichiamo un compressore base ok? Compressore a banda singola. Oh attenzione perché i parametri che vedete qui sono parametri che troverete in qualunque software audio ok? Perché esistono tantissime tantissime tipologie di compressori in commercio ma questi quattro parametri sono presenti in pressoché tutti i compressori perché sono proprio le fondamenta ok? Poi esistono compressori che lavorano anche con altri parametri che fanno tante cose in più ma la base esattamente questa e si basa su questi quattro parametri la soglia il rapporto l'attacco e il rilascio. Come dicevo noi vogliamo fare in modo che tutti quei suoni che superano una determinata soglia vengano automaticamente abbassati. Ora noi sappiamo che il picco più alto di questo primo blocco è di meno 6,55 decibel quindi per esempio possiamo dire al compressore tutti quei suoni che superano meno 6,55 decibel abbassali ok? Non devono superare magari li superano però tu fai in modo che vengano in qualche modo ridotti quindi noi impostiamo il valore della soglia a meno 6,5 decibel ad esempio ora questo compressore base di audition non permette di esprimere più di un decimale alla volta impostiamo anche un rapporto. Cosa vuol dire il rapporto? Il rapporto è quel parametro che indica al compressore di quanti decibel deve abbassare il suono che supera i meno 6,5 decibel. Se io lasciassi così a un 1 per 1 ho scritto anche 1 2.1 dipende dal compressore il compressore praticamente non interverrebbe qualunque suono che superi i meno 6,5 decibel non verrebbe alterato. Più alziamo il valore della razio maggiore sarà l'intervento di riduzione che attuerà il nostro compressore. I valori del compressore vanno da 1 a 1 fino potenzialmente a 1 a infinito. Questo particolare compressore arriva fino a 30 ad 1. Ad ogni modo non entrando troppo nel dettaglio quello che è utile sapere è che la razio indica al compressore di quanto deve abbassare il suono che supera la soglia impostata. Facciamo un esempio via e così capite esattamente quello che sto dicendo. Impostiamo il compressore perché abbia un rapporto di 4 a 1 ok? Lasciamo per adesso inalterati questi altri due parametri e premo applica. Guardate cosa succede. La prima parte della forma d'onda non viene toccata. Perché non viene toccata? Guardate così era prima e così è adesso. Perché questa prima parte non viene toccata dal compressore? Perché non supera i meno 6,5 decibel. Io ho impostato il compressore perché abbassi la forma d'onda che supera i meno 6,5 decibel. Quindi tutto quello che è sopra questa soglia deve essere abbassato. Di quanto deve essere abbassato? Ecco del valore espresso dalla razio. Cosa può esserci utile il compressore audio in un caso come questo? Ecco per esempio io ripristino la situazione iniziale prima che il compressore venisse attivato vado ad applicare una compressione un pochettino più più spinta ok? Invece che di 6 a 1 vado ad applicare una compressione di 15 a 1 ad esempio ok? Applico. Guardate come i due audio o meglio come questa forma d'onda composta da un momento più basso un momento più alto viene in qualche modo livellata resa molto più omogenea. La dinamica si dice viene un attimino attenuata. Se io andasse ad ascoltare con attenzione questo è il primo risultato senza compressore. Sto registrando un audio con una voce abbastanza bassa e adesso a un certo punto alzo la voce e vado a fare un suono sicuramente con un volume molto più alto. Wow! Ok riascoltiamo adesso questa stessa identica registrazione dopo aver applicato il compressore audio. Ascoltate la differenza. Sto registrando un audio con una voce abbastanza bassa e adesso a un certo punto alzo la voce e vado a fare un suono sicuramente con un volume molto più alto. Wow! Ok che cosa è successo? È successo che tutti i valori che superano il meno 6,5 decibel sono stati attenuati della quantità di decibel indicati dal rapporto dal ratio. Questi sono i primi due valori da ricordare quindi la soglia o threshold chiamata in inglese e la ratio. Esistono altri due valori che sono presenti in pressoché tutti i compressori l'attacco e il rilascio. Sono abbastanza intuitivi in realtà l'attacco indica dopo quanti millisecondi deve entrare in funzione il compressore. Il rilascio al contrario indica dopo quanti millisecondi deve essere spento il compressore. Ora io non entro qui nel dettaglio perché è chiaro che serve molta esperienza e ogni situazione è unica. Per esempio se stiamo inserendo il compressore ad una sezione di batteria i parametri da impostare saranno sicuramente molto differenti da un audio che ha ripreso per esempio un pianoforte o una voce umana. Per un montatore video questo a cosa può servire? Lo vedremo in un prossimo tutorial quando parleremo del compressore multibanda di Adobe Premiere. Perché? Perché qui stiamo utilizzando un compressore molto semplice con solo questi quattro parametri. Il compressore che vedremo più avanti nelle prossime lezioni ve lo faccio vedere solo a titolo dimostrativo al volo sarà il compressore multibanda che è un compressore molto più articolato. Vedete che ha molti più parametri su cui agire ma se guardate con attenzione i parametri di cui stavamo parlando prima quindi soglia, rapporto, attacco, rilascio sono sempre presenti. Chiaramente poi esistono tanti altri parametri da utilizzare. Questo compressore ma ripeto lo vedremo in un prossimo tutorial è molto utile perché intanto ha dei molti preset che possono migliorare di molto l'audio e soprattutto con un click ok vediamo l'anteprima ci permette di avere un audio praticamente molto 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 omogeneo e quasi pronto per essere distribuito per esempio su internet. Bassa e adesso a un certo punto alzo la voce e vado a fare un suono sicuramente con un volume. È la classica voce da radio per intenderci ecco quando ascoltate la radio sappiate che è sempre attivo un compressore in realtà quando ascoltate qualunque suono qualunque musica su spotify su youtube in televisione ovunque al cinema sappiate che il compressore è uno di quegli strumenti che viene super utilizzato in qualunque produzione sia audio che video sia audio video soprattutto quindi è uno strumento molto complesso io adesso l'ho semplificato tantissimo ma è uno strumento importantissimo da conoscere non dico da padroneggiare ripeto perché padroneggiare bene un compressore audio richiede molta esperienza molto orecchio e anche un po di studio di teoria di ingegneria del suono possiamo dire così però a grandi linee sapere cos'è un compressore e cosa fa è già molto utile perché poi quello che noi faremo quando lavoreremo ad un video se non abbiamo grandi competenze audio è quello di utilizzare un preset e poi al più andare ad sistemare ecco i parametri del del compressore che vogliamo andare a modificare per il momento mi fermo qui nelle prossime lezioni non vi preoccupate torneremo in premiere e vedremo come applicare tutto questo in adobe in adobe premiere e in senso pratico nelle nostre produzioni video vi invito ancora www.fabioambrosi.it il mio sito internet per vedere l'elenco di tutti i tutorial fatti su premiere nei prossimi mesi ne usciranno altri anche su altri software iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi video e soprattutto se vi fa piacere fabio ambrosi cercatemi su facebook mettete un like a questa pagina e anche qui troverete aggiornamenti in tempo reale appena ovviamente ve ne saranno commentate per domande dubbi o se volete aggiungere qualcosina se siete ingegneri del suono e siete capitati in questo tutorial e volete aggiungere o correggere qualcosa commentate commentate e chiaramente a trarne beneficio saremo tutti quanti ok grazie mille buon proseguimento ciao